Buongiorno! Eh buongiorno a buon'ora, non lo so, sono le 11 e mezza Eh si papà, ieri noi abbiamo fatto un po' tardi Ma noi chi scusa? Buongiorno nonno E questo che c'è fa qua oh? Eh papà, hai bevuto un pochetto? Che faccio? Faccio tornare a casa da solo? Oh Adoni, ma non è che muovendo il caffettino Oh sai che c'è stato proprio a pensare? Te faccio il caffè, due pancakes, poi dopo te faccio, fa pure il ruttino Te verso da bere il succo di frutta, te lavo, te faccio una doccia, te vesto e te riporto pure a casa Amo figlio di Dio, Arumi mica mi aveva detto che c'è stato il pacchetto ospitality qua a casa tua Vabbè nonno accetta, affare fatto Amici Mouse, guarda che da ospitality a ospedality è un attimo, inizia a correre Pussa figlia! Amo, te telefono Oddio fermi, papà me li fai sempre scappa tutti eh Arumi, inizia a correre pure te perchè te stava arrivando a te stata a mo' e a rate Grazie a tutti! Ok, per te Grazie.